Alessandro di Afrodisia. Nel corso dell'età ellenistica le grandi opere di Aristotele erano uscite dalla circolazione e dunque i filosofi che si richiamavano allo stagirita non conoscevano in realtà nulla di quanto Aristotele aveva scritto. Scomparse le opere esoteriche, ossia quelle rivolte all'esterno e per lungo tempo le più lette e studiate, nel primo secolo a.C. tornarono a circolare gli scritti di scuola di Aristotele, quelli detti esoterici rivolti all'interno della scuola. Ciò fu possibile grazie alla riscoperta dei testi attuata da Andronico di Rodi. Andronico di Rodi li raggruppa secondo un ordine sistematico ritmato dalla tripartizione ormai canonica, almeno dall'ellenismo in avanti, tripartizione che suddivide i testi di Aristotele in logica, fisica ed etica. Questi scritti, con la loro imponente strumentazione categoriale e sistematica, concorrono largamente all'affossamento già in atto della filosofia stoica e si oppongono soprattutto alla filosofia della natura, della stoa. Nel combattere con lo stoicismo e con il suo materialismo radicale, l'aristotelismo finisce per guadagnare un carattere spiritualeggiante che in realtà era estraneo ad Aristotele e tende sempre più a confluire nell'alveo della tradizione platonica. Non va trascurato il fatto che uno degli esegeti del riscoperto Aristotele, il filosofo aristocle del secondo secolo dopo Cristo, arriverà a definire l'accademia come il peripato di Platone. In questa prospettiva la pratica filosofica delle scuole si sviluppa sempre più come esplicazione di testi e assume principalmente la forma del commento. In tal senso la filosofia diventa scrittura di testi su altri testi, in particolare commenti di Aristotele e di Platone. Ebbene uno dei più grandi commentatori di Aristotele di sempre fu proprio Alessandro di Afrodisia, che rapidamente divenne il commentatore per Antonomasia. Alessandro di Afrodisia visse tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo e venne insignito del titolo di secondo Aristotele per via della familiarità che aveva con le opere dell'ostagirita. Oltre a ciò Alessandro di Afrodisia fu con ogni probabilità chiamato a una delle cattedre imperiali in Atene sotto gli imperatori Settimio Severo e Caracalla. A questi due imperatori Alessandro di Afrodisia dedica il suo scritto sul fatto, scritto nel quale polemizza duramente contro ogni forma di determinismo, soprattutto contro quello di marca stoica. Altri scritti di Alessandro che si sono conservati sono sulla mescolanza, in cui vengono ancora attaccati gli stoici, e sull'anima, oltre che i commenti ad alcuni testi di Aristotele, al primo libro degli analitici primi, ai topici, alla metafisica, uno e quinto libro, al de sensu e ai meteorologici. Sono invece spuri i commenti alle confutazioni sofistiche, mentre perduti sono andati i commenti agli analitici secondi, alla fisica, al de celo, al de generazione et corruzione e al de anima. Per la tradizione seguente fino al Rinascimento rimarranno di importanza capitali i contributi di Alessandro di Afrodisia all'interpretazione della concezione aristotelica dell'anima, segnatamente dell'intelletto. Come sappiamo Aristotele nel de anima, libro terzo, affronta un problema riguardante un tema su cui prospereranno innumerevoli scritti nel corso della storia, da Alessandro di Afrodisia a Simplicio, da Filopono ad Averroè a Pomponazzi. Infatti pare che Aristotele, distinto l'intelletto in atto da quello in potenza, nel de anima introduca il concetto di nus poieticos, cioè di intelletto produttivo o agente. Il passo in questione è fondamentale ed è fautore di una lunghissima esegesi. Si trova nel de anima 430 a 11. Dice Aristotele, leggo, poiché come nell'intera natura c'è qualcosa che costituisce la materia per ciascun genere di cose e cioè potenzialmente tutte quelle cose e qualcos'altro che la causa e il principio produttivo perché le produce tutte allo stesso modo che la tecnica si rapporta alla sua materia, necessariamente queste differenze si trovano anche nell'anima. E c'è un intelletto analogo alla materia da che diviene tutte le cose e un altro che corrisponde alla causa efficiente da che le produce tutte, come una disposizione del tipo della luce, giacché in certo modo anche la luce rende i colori che sono in potenza colori in atto. E questo intelletto è separabile, impassibile, non mescolato, essendo atto per essenza, da che sempre ciò che fa è superiore a ciò che subisce, e il principio è superiore alla materia. Ora la conoscenza in atto è identica all'oggetto, mentre quella in potenza è anteriore per il tempo nell'individuo, ma da un punto di vista generale non è anteriore neppure per il tempo. E non è che questo intelletto talora pensi e talora non pensi. Quando è separato è soltanto quello che è veramente, e questo solo è immortale ed eterno. Ma non ricordiamo perché questo intelletto è impassibile, mentre l'intelletto passivo è corruttibile. E senza questo non c'è nulla che pensi. Ora questa teoria viene esposta in maniera criptica, cifrata, sintetica, e non di meno lascia intendere come non sia una prerogativa dei singoli individui, il nus poieticos, ma un qualcosa di unico per tutta la razza umana, per tutti gli uomini passati, presenti e futuri. Vi è anche stato chi ha letto nell'intelletto attivo la divinità stessa. Entrambe le letture concordano sul fatto che Aristotele riconosca in quest'intelletto produttivo, nus poieticos, e non in quello di cui sono equipaggiati i singoli, la prerogativa dell'immortalità. Ciò si ricondurrebbe in qualche modo all'impianto generale della filosofia aristotelica, secondo la quale a poter partecipare dell'eternità non sono i singoli ma le specie. L'intelletto passivo di cui ciascuno di noi è equipaggiato sarebbe allora destinato a perire, mentre quello produttivo, poieticos, comune a tutta la specie, dovrebbe perdurare in eterno. Nell'analizzare l'intelletto Aristotele rileva come tutto ciò che appartiene alla natura abbia precise caratteristiche, tra le quali vi è l'avere una materia propria. Essa è potenzialmente un mare magnum di cose, il marmo infatti potenzialmente tutte le cose che col marmo possono essere create, ma accanto a questa causa materiale vi è quella che lo stagirita chiama causa produttiva, poieticon o efficiente, come si chiama nella fisica. Essa, rispetto alla materia, produce tutte le cose che sono in potenza nella materia, cosicché la statua marmorea è causa produttiva che fa sì che dal marmo derivino tutti gli oggetti possibili che possono essere fatti col marmo. Sotto questo riguardo la natura e l'attività tecnica procedono in maniera analoga, cioè attraverso la materia e la generazione di effetti, ma questo discorso vale anche per l'anima, ove sarà possibile trovare una causa produttiva. Applichiamo ciò all'intelletto allora. Al concetto di materia corrisponde quello di potenza, sicché la materia dell'intelletto sarà l'intelletto potenziale, analogo alla materia nel senso che è potenzialmente tutte le cose, cioè tutte le nozioni intelligibili. Il grosso problema che si deve affrontare è che accanto alla materia deve esservi una causa produttrice, un intelletto che ad essa corrisponda. Qual è? Aristotele in questo caso è più criptico del previsto, e per chiarire la differenza tra intelletto produttivo e intelletto potenziale, asserisce che l'intelletto produttivo è una luce, da che anche la luce rende i colori che sono in potenza in atto, così scrive nel de anima. La luce è ciò che fa sì che i colori, potenzialmente visibili, siano effettivamente visti in atto. E che cos'è che svolge mansioni analoghe alla luce nella sfera intelligibile? Per Platone era la verità. Da Aristotele, giacché non esistono idee come esseri universali a sé stanti per lui, questa funzione della luce è attribuita all'intelletto produttivo, che è una sorta di luce che permette alle nozioni intelligibili di essere conosciute in atto. Ma qui principiano a nascere le prime difficoltà. In primis, che cos'è questo intelletto produttivo? Chi ce l'ha? È, spiega Aristotele, un intelletto separabile o meglio separato dal corpo. È impassibile, non è mescolato, essendo atto per essenza. Il suo modo di essere specifico è di essere in atto, ossia non in potenza. Eppure, finora Aristotele parlava dell'intelletto come capace di passare da potenza ad atto. Per argomentare che invece quest'intelletto produttivo è in atto e che il principio è superiore alla materia, allora traccia una scala gerarchica di valori, in virtù della quale ciò che fa è superiore a ciò che subisce, ossia la causa è superiore all'effetto. Si tratta di una gerarchia destinata a grande successo, sarà la base per dimostrare l'esistenza di Dio in età cristiana, anche se a rigore è discutibile. E però è bene notare come Aristotele in questo passo del De Anima non menzioni mai la divinità. Ciò non di meno Alessandro di Afrodisia, chiedendosi che cosa fosse tale intelletto che non può appartenere ai singoli, arriva a collegare questo capitolo del De Anima al dodicesimo libro della Metafisica, in cui, come è noto, Aristotele tratta del motore immobile, di Dio come atto in atto. Nel dodicesimo libro della Metafisica, Aristotele ammette un primo motore da cui dipendono tutti i movimenti dei corpi celesti e indirettamente tutti gli altri movimenti esistenti. Tale motore immobile, che muove senza essere mosso, non può essere una sostanza come le altre, costituito da potenza e atto, giacché, se fosse dotato di potenza, sarebbe esso stesso suscettibile di essere mosso e di esser fatto passare da potenza ad atto. Omne movens abalio movetur. Se invece il motore è immobile, allora non può subire questo passaggio, sicché è solo atto, atto purissimo, atto in atto. Da ciò Alessandro di Afrodisia ricava che l'intelletto produttivo altro non è se non l'intelletto di Dio, anche perché nel dodicesimo libro della Metafisica Aristotele stesso caratterizza l'attività specifica della divinità come attività di pensiero, come pensante in atto, noesis noeseos, pensiero di pensiero. Ma allora a far passare da potenziale ad attuale l'intelletto umano è tale intelletto produttivo, per cui ogni nostro atto conoscitivo comporta l'attività dell'intelletto divino. E questa è una teoria destinata ad avere grande successo, soprattutto grazie alla mediazione neoplatonica. Con l'età cristiana si parlerà di illuminazione divina. D'altro canto anche Aristotele ripete spesso che la causa fa sì che i nostri sensi passino dalla potenza all'atto. Ebbene, dice Aristotele, a far passare da potenza ad atto il nostro intelletto potrebbe essere un intellegibile in atto, cioè Dio. L'intelletto in atto fa tutt'uno con l'intellegibile in atto. L'altra possibile via ermeneutica è quella che identifica l'intelletto produttivo con l'intelletto della razza umana, intelletto che non potrebbe perire da che la specie per Aristotele è eterna. Così come sono eterne le specie, lo sono anche le loro prerogative, nel cui novero rientra la razionalità. Ne segue che a perire saranno il singolo uomo e il suo intelletto, ma non l'intelletto della specie umana. E allora, come diranno i filosofi arabi, in primi saverro è, tale intelletto produttivo sarà unico, giacché unica è la specie umana. Dal canto su Aristotele cerca di spiegare la priorità dell'intelletto in atto su quello in potenza, asserendo che la conoscenza in atto è identica all'oggetto, poiché esso è intelligibile in atto, mentre la conoscenza in potenza è anteriore nel tempo per l'individuo. Però che la potenza venga prima dell'atto è valido solo per il singolo. Da un punto di vista generale, l'anteriorità è invertita, l'atto sta prima della potenza, cosicché, per usare un esempio celebre, la gallina viene prima dell'uovo, giacché quest'ultimo necessita di una gallina in atto che lo covi. Secondo Alessandro di Afrodisia, dunque, l'intelletto umano si sviluppa in un processo in cui interagiscono la disposizione, detta anche intelletto materiale, ad accogliere le forme universali, ovvero gli oggetti di apprendimento e l'insegnamento e l'esercizio. Il risultato è la formazione dell'intelletto inteso come habitus, il quale, quando è in grado di pensare da sé, diventa intelletto in atto, cioè si esplica appunto nell'attività del pensare. Secondo Alessandro di Afrodisia, anche questo intelletto, in quanto proprio di un'anima corruttibile, che è forma di un corpo corruttibile, è anch'esso corruttibile e dunque non gode dell'immortalità. A che cosa corrisponde allora, si domanda Alessandro di Afrodisia, l'intelletto incorruttibile di cui scrive Aristotele nel De Anima? A giudizio di Alessandro, l'intelletto incorruttibile si identifica con quell'intelletto che per natura è sempre intelligente in atto, è completamente disgiunto dalla materia e, essendo pura forma intelligibile in sommo grado, è causa dell'intellegibilità delle forme insite nella materia. Il dio aristotelico si configura allora come intelletto agente, in quanto causa dell'intellegibilità e dell'essere degli intelligibili. Ciò richiama la descrizione dell'idea del bene nella Repubblica di Platone, anche se Alessandro di Afrodisia non identifica l'intelletto divino, l'unico dotato di immortalità, con il sommo bene. Benché nelle dottrine di Alessandro paiano permanere tratti di materialismo, come l'attribuzione all'anima di una natura mortale, il primato che egli assegna alla teologia e l'identificazione del nus poieticos nel motore immobile, con la successiva assimilazione dell'intelletto umano a quello divino, rappresentano altrettanti elementi che, anche dal punto di vista terminologico, avvicinano il pensiero di Alessandro a quello dei neoplatonici. Con Alessandro di Afrodisia, l'aristotelismo compie il suo ciclo e si dissolve nel platonismo, come peraltro dimostra l'assenza pressoché integrale di rilevanti personalità dell'aristotelismo nel periodo successivo.